Ciao ragazze! In questo video prendiamo insieme la casellina numero 6 del calendario dell'avvento che ho acquistato quest'anno Oggi voglio iniziare con quello di Look Fantastic che è appunto una casellina grande quasi quanto quella di ieri che è questa qui, quindi abbastanza stretta è un prodotto per le labbra di un brand che non conosco che si chiama Delila una matita di quella retraibile all'interno ci sono 0,31 grammi di prodotto 24 mesi di pao, fabbricata in Germania è cruelty free e vegan è senza parabeni, dermatologicamente testata questo è il packaging esterno nella colorazione buff 3004 è una matita che dà sul rosato il packaging è fatto così, quindi qua vedete la colorazione quindi se la mettete in piedi la vedete come me del resto, perché ho tutte le matite per le labbra rossetti messi così in piedi appunto la colorazione è questa all'interno c'è tutto questo prodotto vi consiglio di non aprire l'ottropo secondo me se non si spezza perché è davvero molto molto fine è una di quelle colorazioni comunque che io amo per le labbra è un rosa carne forse di uno o due toni più scure della mia labbra molto molto carino sembra opacco però di quelli contemporaneamente anche cremosi non ha una profumazione particolare sicuramente lo utilizzerò perché è uno di quei colori che io amo perché sapete che se trovo qualcosa che non è dato al mio colore o che non mi piace poi lo regalo a mia mamma per quanto riguarda Zalando la casellina numero 6 è la casellina quasi più grande del calendario se la gioca con altre due caselline che sono al 15 e al 20 dicembre comunque è questa qui centrale con la scritta 6 alcuni giorni hanno la scritta il proprio numero altri proprio in lettere è gigante e devo dire la verità questa calendario l'ho preso perché sapevo che c'era questo all'interno non tutti i calendari li ho visti aprire perché naturalmente in internet c'è già uno spacchettamento di questi calendari però di questo l'avevo visto perché ero curiosa non avendo mai preso un calendario dell'avvento di Zalando comunque all'interno c'è un dispositivo che secondo me solo per il prezzo di questo dispositivo vale considerate che ho questo insieme a quello di Ritual se l'ho preso anche scontrato perché è un buono su Zalando comunque il prodotto è questo qui io ho solo il Foreo Luna diciamo di Foreo che mi era stato regalato mio ragazzo due natali fa questo è il lufo mini è della colorazione rosa serve per fare le maschere è made in Cina molto molto carino sono contentissima di averlo trovato o meglio che c'era in questo in questo calendario si può anche connettere all'app sicuramente lo utilizzerò poi vi saprò dire come mi sono trovata sono dei prodotti abbastanza costosi sono molto curiosa anche del Foreo Beer lo chiederò a Natale vedremo se come Natale me lo porta in caso magari potrei acquistarlo successivamente perché tanto a Natale qualche soldino mi arriva sempre perché sono molto curiosa vorrei provare anche quello io mi trovo molto bene con il Foreo Luna con l'ofucsia che è più adatto per il mio tipo di pelle comunque mi piace tantissimo sono fondata di averlo trovato così non l'ho acquista appunto tanto anche se Mini secondo me fa il suo lavoro per quanto riguarda il calendario di The Rituals è una casellina che si trova nell'ultima fila in basso ed è stretta e lunga è questa qui ho sempre paura di acceccarvi con questo calendario troviamo un'acqua profumata e la frase dice Eoli I always have a Christmas è della lina Sugar Love all'interno ci sono 20 ml di prodotto come nell'altra acqua profumata perché abbiamo già trovato un'altra all'interno di questo calendario ha 12 mesi di Pau è una profumazione più fiorita anche se mi sembra di quelle profumazioni molto molto dolci e in effetti è così anche se comunque non è stucchevole come profumazione perché il fiore smorsa un po' la profumazione dolce questo è l'erogatore comunque mi piace come profumo non che io avessi bisogno di acqua profumata di profumo però sono contenta di averlo trovato e niente fatemi sapere cosa ne pensate abbiamo già spacchettato 6 caselline siamo arrivati già alla seconda settimana dei calentari dell'avvento fatemi sapere se conoscete questi prodotti se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto ciao